Io sono il salutatore Lidia, volevo chiederti un saluto per tutti i tuoi fans che ti seguono Un saluto a tutti i tuoi fans che mi seguono I fan che ti seguono I fan, i ventilatori I ventilatori ho detto, ah ecco Tutti i ventilatori che mi seguono Ecco sai quanti ventilatori ho detto nei miei saluti Ti ringrazio e poi volevo ricordare i tuoi eventi per i ragazzi della Siria, i bambini della Siria Assolutamente www.everychildismychild.it Visitate il sito e costruzione della Plaster School per i bambini siriani Mi raccomando Ti ringrazio e poi ricordiamo il sito abbiamo detto www.everychildismychild.it Domani vi aspettiamo qui alla Casa del Cinema Domenica, giorno, ricordiamo il giorno domani è domenica Domenica 29 29, perciò non manchiate Alla Casa di Alice Alla Casa di Alice Sosteniamo la Costruzione della Plaster School per i bambini siriani E ti ringrazio Mi raccomando Ciao Questa è una cosa in serie Questa è una cosa in serie E portiamo anche sempre il sorriso E il saluto Ciao Ciao, grazie Lidia Ciao